ciao a tutti ci siamo aspetta ciao a tutti amici del canale oggi siamo con aldo bergamaschi noto ipnoterapeuta con tanti anni di esperienza in questo settore ciao aldo ciao ciao claudio ipnoterapeuta è una parola un po troppo grande perché di solito questo è un gergo che è una parola che viene assegnata a psicologi o psichiatri che comunque hanno una laurea e hanno aggiunto questa specializzazione diciamo al loro percorso io sono un ricercatore diciamo energetico un ricercatore spirituale e uso la tecnica la metodologia dell'ipnosi regressiva e poi l'ho modificata anche in base a base alle esigenze al mio sentire in ipnosi esoterica perché perché mi chiedi perché nel senso che l'ipnosi esoterica ha un diciamo uno spettro molto più vasto rispetto all'ipnosi regressiva che va si limita soltanto nella ricerca delle vite passate ma non va alla ricerca di qualcosa in più quindi con l'ipnosi esoterica lo sento diciamo un sento diciamo più congruo diciamo a quello che faccio io perché vado a vedere chi c'è dietro effettivamente ad ogni linea temporale ad ogni vita ad ogni esperienza e vado a diciamo a scavare e a vedere cosa c'è e anche ad indagare su quello che può essere un karma molto bene molto bene d'accordo quindi ti vuoi presentare un po' qual è la tua ramo di ricerca che cosa stai scoprendo in nelle tue ricerche guarda tanta roba e non pensavo di poter arrivare fino a dove sono arrivato ma comunque è sempre un percorso che sto facendo nel senso che io inizio praticamente 10 11 anni fa ad interessarmi di questo percorso io prima mi trattavo ero ero in un altro completamente in un'altra in un altro settore solo che sentivo che mi mancava mi mancava qualcosa cioè nonostante io vivevo una vita molto impegnata sotto i riflettori insomma sentivo che c'era qualcosa che stavo sentivo che c'era qualcosa che non che non conoscevo e che mi serviva per il mio percorso sentivo che stavo perdendo un po del tempo non che quello faccia non faccia parte non faccia parte di questa vita diciamo ma perché ci vuole anche quello il mondo dell'arte perché importantissimo l'arte molto importante per la creata per la creatività dell'anima però sentivo che mi mancavano delle informazioni e io non appena ho capito ho sentito parlare di ipnosi regressiva che tra l'altro già conoscevo come nome ma non sapevo effettivamente di cosa potesse trattare fino dove poteva spingersi e con il metodo di mechia aurelio mechia che non ipnologo diciamo colombiano che stimo moltissimo e lui è andato oltre quello che è l'ipnosi regressiva faceva appunto andava a scavare molto di più e a volte parlava anche con entità particolari e oppure faceva parlare la persona ipnotizzata in lingue completamente sconosciute e da lì mi sono appassionato ho cominciato a studiare 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 praticamente come dico sempre a divorare tutto ciò che era che era diciamo mister mistero fino fino a che ho mi sono deciso di intraprendere questo percorso ovviamente dopo tre o quattro anni di informazioni e ho cominciato a fare le mie prime le mie prime ipnosi con la con la tecnica di base e ovviamente sui parenti sugli amici di chi voleva in qualche modo sottoporsi a questa tortura perché all'inizio per me era una tortura però mi appassionava sempre di più e vedevo che man mano che andava avanti con questa con questa metodologia con questo sistema vedevo che non solo io ero 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 diciamo entusiasta ma anche le persone con le quali insomma le quali le quali si sottoponevano questa cosa e quindi c'è stato un passaparola passaparola io praticamente per due anni mi sono ritrovato a far più di 200 sessioni e quello lì è stato lo start insomma adesso sono passati otto anni e quindi sono cambiate tantissime tantissime cose sono nel tuo canale ci sono 727 video quindi ne hai fatte davvero tante ma sì no vabbè ma nel senso che di video sì diciamo che sono la metà più o meno di quello anche poco poco meno della metà di quelli che ho fatto ma non è per il fatto di pubblicare perché prima ero sempre molto entusiasta nel senso che volevo mettere a disposizione quello che usciva fuori poi mi sono reso conto che le informazioni più o meno si somigliano cose tutte quindi da quel momento non ho più non ho più da quando ho capito questa cosa non ho più pubblicato a ritmo diciamo veloce ma ne pubblicavo una due al mese quelle che ritenevo più importanti quindi diciamo che si siamo più o meno sulle 1600 1500 1600 non è conto quali sono queste cose che si verificano più spesso ecco diciamo che parlo della metodologia nel senso che prima ovviamente ho avuto a che fare con con più persone in questa ipnosi allora dobbiamo fare un passo indietro all'inizio io facevo quella classica dove però interagivo anche andando ad investigare su quelli che erano i parassiti e però poi certo è uscito questo metodo ovviamente con un collega diciamo con una persona che ha avuto questa 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 idea e appunto è andato ad indagare tra vi tramite un'altra persona la telepata cioè noi prendiamo una persona terza persona e così eviti di portare in ipnosi la persona interessata perché a volte una suscettibilità ipnotica non riesce oppure si concentra a volte rimane lì per due ore senza tirare fuori un ragno dal buco mentre con una telepata che nasce con queste con queste diciamo caratteristiche con queste capacità questa sensibilità tu in un'ora riesci a fare dieci volte il lavoro che tu avresti fatto con la persona interessata quindi lei entra in ipnosi e praticamente vede tutto il quadro energetico della persona e riesce a vedere qualsiasi cosa è uno sviluppo è uno sviluppo che è andato avanti è andato avanti con il tempo cioè non è che si è creato così e ho collaborato con tante persone c5 se non sbaglio e adesso praticamente sì il cerco si si è ristretto ci sono stati di cambiamenti persone che sono andate persone che sono venute adesso sono circa quattro anni che collaboro con valeria con la quale mi trovo benissimo perché si è creata una sinergia incredibile insomma adesso non c'è neanche bisogno che parliamo insieme ma ci capiamo in telepatica praticamente con le quindi è tutto un work in progress e sono molto contento quindi quando tu hai sperimentato una tecnica cerchi sempre di migliorarla e infatti negli ultimi negli ultimi quattro anni mi sono reso conto che abbiamo fatto tanti cambiamenti abbiamo approfondito di più le ricerche ci soffermiamo di più su quelle che sono che che non so che il karma il problema quello che ci porta i problemi che può portarci anche anche gli anch'esso diciamo dei problemi su in questa vita in questa linea temporale diciamo tra virgolette e quindi più o meno si somigliano quasi tutte le sessioni perché se tu hai questa tecnica si le informazioni magari i parassiti possono essere diversi ma il metodo è sempre quello quindi quando ne hai visto una è come se le avessi viste tutte quante adesso con quest'ultima metodologia che è molto che molto interessante la vedo rispetto a quella del passato la vedo molto diversa andiamo sempre più in profondità andiamo a cercare anche il cavillo le dalle le vite che dove c'è un un origine di un problema karmico c'è il perché questi parassiti si sono attaccati su cosa si sono attaccati perché sempre un motivo anche perché loro si attaccano a una persona è un po come le zecche nel cane che si attaccano il cane che cammina vive non si rende conto che la zecca le prosciuga il sangue tutti i giorni quindi siamo stati sempre più curiosi fino a che ci siamo stabilizzati su questa tecnica adesso rimaniamo su questa perché finché ci porta dei risultati e noi rimaniamo su queste quindi adesso pubblico una sessione due sessioni al mese insomma quando vedo che c'è magari qualche qualche informazione diversa rispetto alle precedenti se c'è qualche novità che potrebbe interessare a chi segue il canale e allora ne pubblichiamo poco ne sforno poche insomma non esforno diciamo né pubblico poche parliamo un po dei parassiti i parassiti allora questo bisogna capire da dove iniziare quando si parla di parassiti dobbiamo capire il perché di parassiti perché noi pensiamo di vivere in libertà ma poi effettivamente non lo siamo liberi no perché dobbiamo capire almeno quello che ho capito io in questi anni è che noi siamo anima e che veste un corpo ma non siamo un corpo che possiede anima quindi se tu riesci a comprendere il concetto riesce a fare sicuramente un passo in avanti perché se noi ci riferiamo soltanto e giustamente perché è più che è più che comprensibile che un essere umano si c'è si veda come essere umano perché noi non abbiamo le capacità attraverso la nostra mente attraverso la nostra configurazione come siamo stati modificati geneticamente perché abbiamo dei creatori noi non siamo stati creati da qualcuno quindi non abbiamo la possibilità di poter ricordare le vite precedenti vite passate quindi noi per noi è sempre la prima volta quindi per noi abbiamo sempre abbiamo questi genitori questi fratelli queste mogli questa moglie ma non sappiamo che abbiamo avuto tanti tante mogli tanti fratelli tante sorelle tanti genitori siamo stati tutto siamo stati uomini siamo stati donne e questo è una cosa che difficile da digerire però che succede dando un senso a quello che sto dicendo l'anima praticamente quando decide di fare esperienza perché esiste questa realtà cioè l'anima ha bisogno di conoscenza adesso chi c'è dietro l'anima il perché l'anima ha bisogno di fare esperienza questo e non lo può sapere nessuno però perché c'è chi ha creato l'anima in qualche modo cosa succede che l'anima ha bisogno di fare esperienza quindi ha bisogno di fare di provare questo questo gioco è un po come il videogame di super mario con le varie difficoltà quando impara a superare tutte le difficoltà arriva un punto dove tu hai dedicato giorni e giorni e giorni e riesci a vincere il gioco ok poi finisce quel gioco e ne ricomincia un altro questa più o meno la stessa cosa che fa anima solo che a differenza di qualche giorno l'anima ci può impiegare anche secoli o millenni per poter fare tutto un percorso un giro e spesso ci rendiamo conto che anima decide di venire qua ma non riesce più ad uscire fuori ma non è un problema perché come dicevamo appunto di fronte all'eternità cosa cosa sono duemila tremila o cinquemila anni o ventimila anni non sono nulla è un attimo un secondo e se siamo noi che come esseri umani ok percepiamo il tempo a differenza dell'anima e quindi per noi passare una vita segregata una vita magari malconci disperazione nella fame nell'agonia della sofferenza certo è abbastanza lunga però a volte siamo vittime a volte siamo carnefici quindi a volte magari passiamo una vita alla grande e a volte passiamo una vita sofferente però è comunque l'anima che vuole fare questa esperienza va dentro e rimane incastrata nelle quelle che sono chiamiamole tra virgolette le regole di questa matrix di questo gioco che è stato ben organizzato da qualcuno quindi qui ci sono i parassiti i parassiti prima di parlare questo però ci sono molte anime diciamo molte persone molte anime che in questo momento dicono beh io ora ne ho avuto abbastanza e vorrei riuscire a uscirne ecco questa è la parte razionale la parte mentale dell'essere umano perché noi siamo molto limitati nel nostro ragionamento ma quando usciamo fuori dal corpo una volta che siamo usciti fuori dal corpo la nostra capacità energetica e animica è molto più vasta rispetto a quella che abbiamo quando siamo incastrati in questo scafandro quindi quando tu esci fuori arrivi alla fonte poi qui c'è anche da parlare riguardo a questi questi tuner queste cose però si va sia una parte di noi arriva alla fonte e da lì in qualche modo si rigenera e si incontra con tutte le altre anime e poi decide tipo di fare un altro salto ok ma questo lo decide anima cioè noi non siamo non abbiamo la capacità di dire ok io non voglio più rincarnarmi perché sono stufo perché non posso più supportare queste guerre queste sottomissioni da parte di chi ci governa e non voglio più rincarnarmi in questo in questo pianeta in questo in questa dimensione ma non è così perché proprio qui il bello è proprio qui dove l'anima in qualche modo si diverte a volte soffre perché soffre però è questo fa parte del pacchetto capito attraverso anche la sofferenza tu riesci ad avere a capire tante cose perché noi siamo parte del tutto sappiamo che in questa dimensione esiste il bene esiste il male esiste la polarità no lo ling lo yang c'è il negativo il positivo il nero il bianco e quindi dobbiamo accettare tutte queste cose e fa parte dell'esperienza in qualche modo emerge che l'anima viene in qualche modo ingannata a tornare beh certo perché una volta che tu vai nell'arena ci sono i leoni che in qualche modo vogliono vogliono mangiare quindi quando tu decidi di fare questo di accetti questa sfida normale che tu entri dentro e ci sono loro che in qualche modo non vogliono che tu ti allontani perché perché sperano in qualche modo attraverso la tecnologia attraverso l'inganno cercano di farti tornare cercano di crearti è una qualcosa che ti che ti dia lo spunto di poter ritornare perché se ritorni loro ti aspettano e ti e si nutrono perché qualcosa lo possiamo anche chiamare con una propria trappola diciamo sì 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 l'inganno la trappola si c'è loro perché uno un'anima ora diciamo io io no io non sono realmente stufo di stare qua io alla fine mi piace anche perché comunque è divertente per tanti versi molto interessante questo mondo qua però nel momento in cui decido di volermene andare perché lo decido perché lo voglio esiste la maniera di potersene andare senza farsi rompere le scatole da queste trappole o in qualche modo hai accettato e devi stare finché non so finché non hai completato il gioco in qualche modo cosa vuol dire sì cosa significa veramente completare il gioco completare il gioco significa che tu puoi deve arrivare ad un livello di consapevolezza e di di amore diciamo quello che questo è sempre dal mio punto di vista attenzione certo uno deve prendere con le pinze tutto è secondo il mio sentire secondo la mia esperienza secondo tutte tutto quello che ho vissuto finora e di errori ne ho fatti tanti ma di tentativi ne ho fatti tanti di scoperte diciamo ne ho fatti tante e ho capito che la chiave per poter uscire fuori da questa dimensione è l'avvicinarsi il più possibile all'amore incondizionato ma quando si parla di amore incondizionato o si parla di amore bene siamo totalmente lontani da questo significato profondo perché non sappiamo effettivamente cosa significa amore figuriamoci l'amore incondizionato si dice che l'amore che si avvicina di più a questo vero senso della parola è quello che può provare la madre per un figlio per esempio ok quello potrebbe essere diciamo un esempio ma siamo ancora molto lontani qualcuno diceva dice diceva dice ancora oggi perché ancora il mondo gaspare del ama che io ammiro tantissimo che è uno dei componenti del caso amicizia un caso diciamo molto famoso negli anni settanta e dice che questo personaggio con il quale lui era in contatto si chiamava si chiama si giro tuttora perché questi vivono molto di più di noi che ovviamente hanno più esperienza hanno più evoluzione dice che l'amore inizia dove finisce la logica quindi noi non sappiamo cosa può significare cosa possa significare amore ecco quella che tu quando arriverai a più vicino possibile a questo significato probabilmente sarà arrivato il momento per te di uscire da questa dimensione cioè di non aver più bisogno di essere qui di tornare qui quindi sceglierai probabilmente un corpo molto più sottile magari di quarto di quinta dimensione dove la vita è diversa hai una capacità migliore di poter percepire cioè fai la tua esperienza ma la fa in maniera in maniera più leggera quindi avrai un corpo più sottile più leggero più predisposto alla telepatia dove c'è dove la tecnologia va a pari passo con la spiritualità qui noi la tecnologia la usiamo soltanto per scopi bellici e per l'avidità per il potere per tutto appunto a servizio di questi parassiti che hanno bisogno della nostra energia io quando dico la nostra parlo di chi ha di chi possiede anima perché non tutti gli esseri umani possiedono anima e questo è un altro un altro diciamo un piccolo particolare molte persone quando dice questo rimangono un po sconvolte interdette quando si dice che non tutti hanno anima perché insomma sembra una cosa che molti le persone che hanno anima non sono di sicuro su questi canali non sono interessati a questi argomenti cioè non sanno neanche magari sono lì davanti al televisore e ma sorbono tutto quello che le viene detto da quella scatola lì basta cioè nel senso viene viene quasi colto da certi come un discorso razzista specista come dire no 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 ti rendi sì no ma noi mi sono fatte fatte delle obiezioni di questo tipo dicendo che secondo me non tutti cioè secondo me per esempio la cosiddetta emergenza sanitaria ha dimostrato scientificamente che ci sono persone che che non hanno anima ecco quindi non solo coloro che l'hanno organizzata eccetera ma proprio coloro che hanno partecipato in maniera proprio cieca a tutta a tutta la storia quindi mi sembra che non si possa neanche mettere tanto in discussione cosa è un'osservazione empirica della realtà gli antichi gnostici già dicevano che esistevano tre categorie di persone gli ilici gli psichici pneumatici e gli ilici sono come dire i veri propri nativi del mondo i veri propri autoctoni e gli altri invece hanno già qualche cosa che che proviene d'altro e fino poi gli pneumatici che sono spirito quasi proprio quasi spirito incarnato ecco una scheggia di dio nel mondo per cui non vedo perché bisogna bisogna in qualche modo offendersi anche se si dice questa cosa qua ma dall'offesa l'offesa la lasciamo a a chi non ancora non ha la capacità di poter capire determinate cose io innanzitutto come possiamo capire sapere chi è che anima chi non anima io so chi anima perché quelli che vengono da me per fare questa esperienza per controllare il loro loro campo energetico e perché hanno anima altrimenti non verrebbero ma non verrebbero perché non ne avrebbero bisogno non si sentirebbero pronti perché chi chi si sente pronto è proprio quella persona che si fa queste domande ma perché io sono qui ma per cosa ci faccio ma perché devo devo soffrire ma perché io questi problemi nonostante tutte le fatiche che faccio tutte tutte ho troppe resistenze e quindi tutto rema contro di me e normalmente queste sono le persone che hanno un'anima capito che stanno passando quella fase da vittime ok e non sono quelli che stanno passando bene perché chi se la passa bene alla fine non non ha non ha non ha bisogno insomma di andare alla ricerca di queste cose quindi noi non sappiamo effettivamente in generale chi è che anima chi non anima chi non ha anima non si non si pone domande diventa un mezzo diventa un mezzo per poter aiutare invece chi vuole avere il potere su questo piano dimensionale quindi possono essere di dei contenitori che vengono presi e usati come come joystick quindi sono formiche che vanno a servizio di qualcosa che le spinge a fare un percorso la mia teoria che quei questi siano come dire i bot di matrix che servono per mantenere il sistema in piedi a senza creare problemi fondamentalmente quello che gli dici lo fanno perché magari si lamentano un po borbottano un po però poi alla fine lo fanno senza creare problemi mentre invece coloro che fanno già creano dei problemi devono essere anche molto di meno perché altrimenti sarebbe ingestibile sono naturalmente le persone che hanno questo tipo di che non ci stanno del tutto bene tutto dentro diciamo dentro dentro questo questo mondo universo contenitore in cui siamo in cui siamo in questo momento qua certo è vero che adesso ci troviamo in una in una in un ad un punto che attraverso la tecnologia attraverso l'evoluzione nell'arco di questi ultimi 70 anni insomma anche e le persone anche l'essere umano comune viene a conoscenza di tante cose mentre prima si viveva soltanto nell'ignoranza ed eravamo solo ed esclusivamente vittime ma anche chi se la passava bene era una vittima anche il re di turno era una vittima perché alla fine aveva tante cose da pagare e tante ne ha pagate dopo successivamente nelle vite successive quindi erano tutti vittime vittime carnefici erano tutti vittime adesso invece con la tecnologia praticamente questi questi alieni si sono dati un po la zappa sui piedi è vero che ci stanno controllando e ci controlleranno sempre però ci stanno mettendo a disposizione una piccola una piccola diciamo parte di tecnologia che noi a noi ci basta ce la facciamo bastare tanto per comunicare vede uno con l'altro a distanza magari di chilometri e chilometri insomma e quindi veniamo veniamo sempre ogni giorno veniamo sempre a conoscenza di cose nuove e che ci fanno aprire la nostra mente quindi diventiamo sempre più curiosi e ci chiediamo sempre più perché sì in qualche modo molti pensano che aver messo internet sia stato come un boomerang per loro sì però d'altra parte però vedi quando quando una volta esisteva la quella che chiama quello che chiamavano la schiavitù anche se la schiavitù esiste anche oggi a livello sottile ma una volta chi nasceva schiavo ti faccio un esempio pensava che la sua vita fosse quella non si poneva non si poneva il pensiero ma dice ma perché cioè io loro vivevano erano figli di schiavi e nascevano schiavi e facevano quel tipo di vita pensavano che la vita loro era quella di lavorare per altri gratuitamente in cambio di del cibo e e di torture a volte anche no e di violenze a oggi per fortuna le cose stanno cambiando oggi abbiamo la possibilità di non vivere più quei tempi molto duri che erano che erano fino a un secolo fa adesso c'è tutto in evoluzione adesso pensiamo che io non voglio neanche immaginare fra vent'anni cosa cosa ci possa essere quindi stiamo facendo un salto molto 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 veloce molto molto tra l'altro il tempo il tempo secondo molti accelerato secondo me sicuramente secondo tempi si beh è tornato sì tempo di essere di sedici ore questo dipende da ognuno di noi insomma da come è messo insomma energeticamente però ecco diciamo quando quando tu hai poca curiosità quando tu magari sei in preda a questa matrix a questa a questo mondo virtuale diciamo che sei più incline a controllare il tempo che passa velocemente perché le tue giornate sono sempre le stesse ti alzi la mattina vai colazione vai a lavorare e torna a casa ti riposi puoi mangiare vai a dormire e questa è la giornata che passi velocemente quando sei bambino invece che sei inconsapevole cioè nel senso che sei non hai pensieri non hai niente la giornata dura molto più a lungo non so se ti ricordi che da bambino sembra una giornata sembrava che fosse un'eternità ma non solo ma la vivevi secondo per secondo da Natale da Natale a Ferragosto e viceversa c'era del tempo c'era molto tempo esattamente adesso adesso Natale fra un pochino dice c'è un amico che dice esatto quindi quando sei bambino ecco perché bisogna tornare bambini quando sei bambino tu vivi giorno per giorno attimo per attimo secondo per secondo senza proiettarti nel passato nel futuro nei problemi nei pensieri nelle preoccupazioni il bambino è creativo infatti anche nell'ipnosi vedo spesso che le anime hanno della tregua hanno tregua fino ai cinque sei sette anni perché poi la conformazione la conformazione corporea fa sì che l'anima perda un po' il suo potere quindi la sua creatività e ci blocchiamo entriamo nel sistema veniamo indirizzati e di qua e di questo ne potremo parlare per giorni no per ore quindi l'indottrinamento le religioni l'insegnamento i metodi scolastici i genitori stessi cioè tutto ci comporta una chiusura noi ci chiudiamo la società le informazioni i messaggi subliminali le pubblicità c'è tutto ci mette uno contro l'altro quindi ci chiudiamo in questa in questa in questo meccanismo in questa morsa e basta è finita il fatto che noi viviamo fino a 80 anni 90 anni per noi è sconveniente perché 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 loro lo sanno benissimo che se avessimo a disposizione 300 400 500 anni o 1200 anni come il tempo degli adamiti e a quel punto noi avremmo avuto modo di poter consapevolizzare di più la nostra coscienza e invece così avendo diminuito di gran lunga la nostra aspettativa di vita ecco qua che l'anima non fa in tempo a capire qualcosa che subito deve ripartire da capo l'hanno settato apposta secondo me su questo l'hanno fatto apposta a darti quel tempo lì perché non puoi fare chissà cosa ecco il tempo che fai a e sei di nuovo lì da capo esattamente proprio così e quindi entrano in gioco i parassiti i parassiti sono tanti ci sono tantissime categorie beh il primo è stato Corrado Malanga a tirar fuori tutta la classifica ma ti posso dire che in base al nostro percorso abbiamo avuto modo di vedere razze ancora diverse diverse rispetto a quelle già elencate perché quando elenchi le razze di base allora ci sono i grigi ci sono i rettili che sono i più comuni ci sono i rettili che poi nei rettili ci sono rettiloidi ci sono tante razze da parte della serpente fino al draconiano però quella è la famiglia di rettili poi ci sono gli insettoidi che possono essere cavalletti oppure mantidi religiose oppure formiche e poi ci sono qualcuno potrà dire ma cosa sta parlando cosa sta dicendo questo quindi ci sono i falconiformi ci sono i ferinoidi e ci sono gli umanoidi che hanno forme più o meno come le nostre ma anche lì ci sono tantissime razze ci sono anche gli anfibi che sono molto pesanti stamattina abbiamo trattato un caso con la presenza di un anfibio beh ci sono tantissime razze poi ci sono gli ibridi cioè praticamente razze che ne sono umanoidi ibridate con i rettili oppure con gli anfibioidi oppure con i ferinoidi i falconiformi che poi sono tutte razze aliene che tu vedi anche sui girogliani infatti mentre pari vengono in mente i girogliani ci vengono in mente tante cose ma quindi loro decidono ogni tanto di mescolarsi tra di loro creare delle nuove specie beh l'evoluzione non va avanti soltanto su questo piano terrestre ma va avanti anche per loro in maniera molto più smisurata rispetto a noi perché loro ogni giorno hanno che ne so intelligenza artificiale che questo è un tasto molto fresco che praticamente crea cose nuove crea ibridazioni nuove aspettative diverse più complicate più complesse ma lo scopo qual è lo scopo di tutto questo è che in qualche modo queste entità chiamiamole entità chiamiamole alieni chiamiamole parassiti io le chiamo parassiti perché dal momento che hanno bisogno della nostra energia per me sono parassiti anche noi siamo parassiti attenzione beh certo perché non è che voglio escludermi perché anche noi abbiamo bisogno di alimentarci di carne quindi abusiamo della carne e degli animali per mangiare quindi anche noi siamo parassiti perché hanno bisogno di energia ok allora però se la vediamo su quella dalla loro parte loro hanno bisogno di questa energia che si chiama anima l'uredda che ognuno la chiama come vuole e quest'anima loro non ce l'hanno non riescono a raggiungerla cioè la riescono a raggiungerla soltanto attraverso di noi quindi ma nessuna di queste razze scusami nessuna di queste razze ha l'anima guarda di quelle che abbiamo investigato noi no ok poi se ci sono razze umanoidi che quelle sono più vicine all'essere umano quindi sono più sono più predisposte a contenere anima possono possono averla l'anima magari di terza di quarta di quinta dimensione fino a poi andare alle dimensioni più spirituali dove l'anima non ha più bisogno di fare nulla di sperimentarsi ok però in queste altre razze l'anima non va cioè l'anima non decide di andare non deciderebbe mai di andare in un corpo come quelli come quelli là perché loro hanno la tecnologia di potersi in qualche modo rinnovare a livello cellulare allungare l'aspettativa di vita possono durare anche fino a 22.000 anni fino a 30.000 anni quindi cosa succede possono raggiungere anche l'immortalità attraverso tra virgolette poi non lo possiamo sapere questo attraverso la tecnologia ma hanno sempre bisogno di energia quindi un'anima sapendo che là dentro in quel contenitore che sia un ragno che sia un serpente o che sia un cavalletto o che sia un umanoide sa che dovrà rimanerci per tutto quel tempo io la non vado a fare esperienza anche se l'anima in un certo senso il tempo non lo percepisce ma hanno proprio un DNA delle vibrazioni che non permettono in qualche modo ad anima di entrarvi quindi anima loro non ce l'hanno per qualche motivo non ce l'hanno quindi ce la prendono a noi loro si riproducono grazie all'energia della nostra anima loro ci prendono l'anima attraverso la loro tecnologia e che la tecnologia è immensa cioè potrei descriverne il 0,001% di quello che noi troviamo nell'esperienza dell'ipnosi quello che ci racconta la persona che ci racconta la telepetta tecnologia che usano per il loro che ne so per propulsione per le guerre la usano per per qualsiasi cosa per riprodursi per creare diciamo un involucro una placenta artificiale per poter far crescere i loro feti quindi loro usano la nostra energia è una fonte è una fonte di energia c'è bisogno di energia altrimenti non si può fare nulla c'è bisogno di questo di questo tipo di energia e loro ce la prendono attraverso gli impianti attraverso qualsiasi cosa loro hanno a disposizione abbiano a disposizione prima di proseguire su questo che è estremamente interessante gli UFO quando vediamo i dischi volanti che cosa fanno esattamente quando girano sulle città allora il fatto che adesso si facciano vedere è un mio punto di vista nel senso che una volta anche seguendo anche diciamo le teorie non le teorie diciamo le trascrizioni di Biglino per esempio si può capire si può anche attraverso le scritture che una volta parliamo già di 2.000 o 3.000 o 4.000 5.000 anni fa indietro queste razze convivevano con l'essere umano per il semplice motivo che l'essere umano era un numero molto più limitato rispetto ad oggi adesso sono quasi 8 miliardi ma una volta non eravamo neanche la metà della metà della metà in tutto il pianeta quindi loro convivevano e insegnavano davano strumenti a questi esseri umani quindi era un allevamento in qualche modo controllato ma con la presenza di questa entità adesso so che ci stiamo moltiplicando a dismisura infatti per quello che adesso stanno cercando un sistema per poter in qualche modo abbassare il numero pro capita delle persone su questo piano non vogliono non possono più interagire con noi ma adesso siamo in un punto in cui sta uscendo fuori tutto attraverso la divulgazione dell'internet della rete si possono vedere pubblicate migliaia di avvistamenti ogni giorno quindi loro cominciano a farsi vedere perché è arrivato il momento in cui loro devono trovare il momento giusto per poter palesarsi ecco io credo che questo sia molto vicino non so di preciso quando accadrà ma accadrà molto presto sì però ti volevo chiedere se secondo te stessero in questo modo mentre sorvolano una città oppure se stessero succhiando energia ma loro fanno fanno quello che devono fare diciamo che dobbiamo capire chi c'è dietro questi velivoli a volte sono anche diciamo sono anche di sono terrestri noi non sappiamo ma esistono velivoli diciamo alieni ma di tecnologia aliena ma sono in mano sono in mano diciamo ai militari non quelli che come o retroingegneria oppure perché hanno fatto proprio degli scambi abbiamo detto che abbiamo certi umani da rapire esattamente come come nelle sacre scritture come nelle antiche scritture diciamo Yahweh era in contatto con Mosè con i suoi che erano a capo di un villaggio di una tribù quindi loro interagivano facevano da ponte la stessa cosa succede oggi non è cambiato nulla ogni alieno possiede il suo appezzamento di terreno la sua nazione quindi in Francia c'è il suo in Israele c'è un altro c'è ci sono di loro c'è capito l'America c'ha i suoi l'Inghilterra i suoi e c'è tutta ognuno al suo in Giappone in Cina in Russia ognuno ha il suo alieno di turno che in qualche modo manovra è in contatto con loro con loro o con qualcuno che è in qualche modo mascherato da essere umano e loro ci sono ci sono sempre stati solo che adesso qualcosa sta cambiando adesso cosa vogliono cosa vogliono fare di preciso questo non lo sappiamo perché io non faccio investigazioni anche perché non ho il tempo di fare investigazioni però quando si tratta di fare un'investigazione bisognerebbe farla diciamo sincronizzata con tante persone con tanti telepati sulla stessa domanda allora a quel punto potremmo avere una risposta perché non è che bisogna prendere per oro colato quello che dice una telepata o che dice una persona in ipnosi perché può essere sporcata appunto da loro secondo te comunque sia preparano qualcosa di buono con questa invasione o c'è qualche di nuovo ancora c'è aspettarsi qualcosa di buono da governi alieni o no? guarda cose buone mai su questo piano dimensionale cose buone mai noi ci preoccupiamo sempre della pelle della nostra pelle quindi vediamo soltanto le cose da un punto di vista perché io dico sempre e sto dicendo una blasfemia non lo so però io dico così cioè a volte il passaggio cioè lasciare il corpo potrebbe essere un'opportunità capito? invece noi a quanto pare vogliamo tenercela stretta questa pellaccia e quindi più si ha paura di perdere questo questo vestito e più si entra nel meccanismo loro e più diamo energia a loro perché questo loro non hanno bisogno di soldi non hanno bisogno di queste cose loro hanno bisogno di energia hanno bisogno che l'essere umano viva nel terrore cosa significa questo che tutte le informazioni che vengono date dalla televisione dalle pubblicità da quello che ma la pubblicità magari è un po' meno perché è più sottile però tutte le informazioni che vengono date ai telegiornali non c'è niente di amorevole non c'è niente di visione e terrore e basta e basta quindi abbiamo paura della guerra ma loro i governanti lo sanno benissimo perché sono tutti d'accordo tra di loro loro si mettono d'accordo diciamo qua dobbiamo fare questo gioco perché se non facciamo questo gioco ci rimettiamo tutti quindi sono tutti quanti poi c'è quello che vuole fare la parte del buono quello che vuole fare la parte del cattivo ma alla fine lo scopo è sempre quello chi c'è di mezzo è l'essere umano che comincia è come una partita di tennis o di ping pong così la politica uguale poi loro in questo modo fanno anche schierare tante persone con uno tante persone con l'altro creano divisione divisione e terrore divisione e odio tu dividi le persone e imperi certo è chiaro il gioco e noi non capiamo effettivamente qual è il nostro il nostro potenziale perché noi abbiamo un potenziale ce l'abbiamo io mi è capitato il video di un bambino che praticamente ha scoperto di avere dell'energia tipo scosse nelle dita che è bellissimo su tiktok e questo bambino gioca con questa energia sembrano proprio sai quelle scariche elettriche quando sono nel pianoforte e vedi queste scariche elettriche quello non è un fotomontaggio cioè quella è per capire quanta energia infinita abbiamo dentro perché noi con la nostra energia potremmo potremmo essere come fare un effetto bomba atomica ma non ce ne rendiamo conto e loro stanno ben attenti nel poterci usare non è che loro come parassiti entrano facilmente e fanno quello che vogliono di noi no non funziona così cioè loro ci lavorano dietro anni e anni da vita in vita loro ci fanno provare emozioni magari attraverso una vita che abbiamo fatto cento anni fa allora prendono l'anima la sensibilizzano facendole ricordare quel tipo di vita quel tipo di vibrazione e ti incastrano in questa vita ci sono dei meccanismi completamente complessi che ci sono voluti degli anni per capire come funzionano e ci rendiamo conto che quando ad anima le fai capire come funziona il meccanismo le cose cambiano immediatamente cambiano quando le persone dopo una settimana o un mese o due mesi mi dicono guarda io non lo so cosa è successo ma la mia vita è cambiata completamente cosa significa questa? non perché è risolto un problema sì è vero l'anima ha risolto il problema ha capito quel meccanismo che era legato al karma e agli impianti ha eliminato impianti e è andata a modificare quello che era il suo karma capito una cosa in più quindi lei cosa fa? vivendo in un corpo che ha capito in un vestito che ha compreso a livello razionale e lei si è liberata di questi impianti praticamente lei inconsapevolmente crea una realtà diversa intorno a sé ci sono persone che vivono che possono vivere nel terrore tutti i giorni e persone che sono nell'appartamento a fianco vivono una realtà completamente diversa questo è quello che ero io per esempio prima di iniziare a fare questo percorso esattamente io vivevo una vita cioè incredibile cioè non posso neanche raccontarla ero proprio ero una preda in preda cioè ero vittima nel senso di di un'entità che avevo attaccata addosso non so neanche dove me l'ero presa ma me la trascinavo dietro anzi era attaccata proprio dietro la mia colonna vertebrale e io ero impulsivo ero irascibile cioè ero proprio ero sempre nervoso quando mi scattava nervoso io vedevo soltanto scuro cioè non ero non avevo la capacità di poter mantenere l'equilibrio qualsiasi cosa succedeva e a volte mi impressionavo da solo una volta che ho fatto la mia prima sessione parliamo di undici anni fa e mi sono liberato di questa entità cioè la mia vita è cambiata completamente oggi mi ritrovo in questo punto cioè io potessi tornare addirittura rifare gli stessi errori le stesse cose pur di ritrovarmi qui dove sono oggi perché è stato il mio percorso dove ho capito tante cose e la mia vita è cambiata completamente infatti prima che ne so mi trovavo a vedere che ne so incidenti per strada o gente che faceva delle risse e mi trovo in situazioni sempre così non dico ogni giorno ma quasi sempre oggi è come se io fossi fuori dal mondo ho migliorato il mio stile di vita e anche per cose che succedono qua dove vivo cioè sembra che la gente stia vivendo delle realtà persone che si acciuffano che si ammazzano di botte e magari io che ci abito a fianco oppure io non ho sentito niente cioè capisci eppure tutta la palazzina ha sentito io non sentivo niente ma non perché dormivo perché succede spesso questa cosa ma io ne sono completamente al di fuori quindi è come se non mi facessi in qualche modo condizionare da da questa matrix ok è vero ci faccio parte perché anch'io accuso il peso diciamo di questa dimensione ma non mi faccio prendere del tutto perché è una mia parte che reagisce e quindi la mia anima crea intorno a me una realtà diversa rispetto a un altro che vive nel terrore noi siamo anime e non ce ne rendiamo conto fino a quando non ce ne renderemo conto viveremo sempre quello che vogliono farci credere dunque qual è il loro specifico come intervengono come ti pigliano cosa fanno esattamente beh spesso ti prendono sulla paura però cominciano a lavorarci allora facciamo un esempio perché se partiamo dalle vite precedenti diventa molto complesso però partiamo da questa vita ok sei bambino hai paura del buio vuoi stare nel letto con mamma e papà perché hai paura vedi il mostro nell'armadio vedi il mostro che esce dall'armadio da sotto il letto la mamma dice vabbè non ti preoccupare quello è il lupo cattivo che ha voluto cioè non ti dà non ti dà un insegnamento non c'è ancora questa cultura il bambino vede percepisce sente ci sono bambini oggi che parlano con gli amici immaginari che vedono solo loro perché hanno un'apertura hanno una pineale molto più sviluppata sono ancora sono ancora fertili ok e allora vedono tutto hanno un terzo occhio molto più sviluppato del nostro poi si chiuderanno ai 6-7 anni ma prima loro percepiscono tutto quindi cosa fanno questi personaggi girano intorno ad anima ma non si avvicinano facilmente perché se anima poco poco gli prende diciamo lo schiribizzo e gli va contro loro potrebbero esplodere in un attimo quindi loro cosa fanno cominciano ad aprire un varco attraverso la paura attraverso il timore allora incutendo paura è come se noi a livello vibrazionale aprissimo le porte un po' ai ladri e fanno entrare e ci derubano di quello che abbiamo quindi loro in qualche modo usano il terrore la paura per poter entrare una volta che sono entrati e questo potrebbe essere anche attraverso ti faccio un esempio un grande dispiacere la perdita di una persona cara la perdita di un lavoro una sconfitta importante quando è la guardia abbassata in poche parole esatto oppure quando quando magari prendono uno spauracchio è incredibile ecco perché io sono sempre contro a questi video quando vedo che fanno vogliono far ridere a far paura alle persone che magari gli fanno terrore vestendosi questa è una cosa pericolosissima pericolosissima quindi cosa fanno entrano con la paura attraverso la paura una volta che sono entrati che sanno che anima non li può danneggiare cominciano a inserire il primo impianto quando parlo di impianti non parliamo di microchip che conosciamo noi quelli che ci inseriranno fra dieci anni anche prima no dieci anni a livello a livello mondiale se vuoi vivere qua ti inserisci il microchip e con quello fanno tutto e sei reperibile ovunque anche senza telefonino quindi cosa significa che loro ti inseriscono il primo il primo impianto che può essere un impianto che noi non possiamo neanche capire minimamente con la nostra con le nostre con le nostre conoscenze perché possono essere anche a livello eterico cioè lo possono inserire nel nostro corpo eterico che sarebbe diciamo lo strato più attaccato al nostro corpo fisico sì e da lì ci cominciano a a contagiare a manovrare quindi da un impianto ne mettono un altro da un altro ne mettono un altro magari ti fanno ti cominciano attraverso dei sensori nel terzo occhio ti fanno vivere dei sogni dove tu abbassi ulteriormente le vibrazioni allora cosa fanno allora lì approfittano e ti inseriscono qualcos'altro una volta che ti hanno completamente microcippato e loro ti comandano ti fanno provare emozioni e loro succhiano capito e e te lo fanno quando vogliono quando ne hanno bisogno capito è un po' come il contadino quando le serve il latte va dalla mucca e sale da tale ora a tale ora la munge e si prende il latte poi ci sono quelli che aprono addirittura lo stomaco delle mucche fanno questi impianti mettono dentro i vari tipi di cereali che questa è una cosa assurda certo ma non è molto diversa da quella che fanno loro a noi però a livello energetico loro noi lo facciamo a livello fisico sugli animali a livello energetico capito cioè noi percepiamo una vita normale siamo impiantati e pensiamo di essere liberi invece siamo controllati capito e e quindi loro ci impiantano fino a quando tu ti rendi conto e dici ma perché io ho questi fastidio anche le malattie stesse hanno un'origine comunque energetica capito certo questo è un discorso un po' più sottile vorrei assedere un po' da questa cosa qua però ecco per esempio tutto ha un'origine tutto qualsiasi cosa ti volevo chiedere una cosa Aldo quegli impianti che invece sono fisici che mettono degli impianti fisici durante i rapimenti quelli invece che impianti sono cosa vogliono con quelli impianti beh anche quelli hanno una funzione ma sono geolocalizzatori sono impianti sì sì per non perderti di vista perché tu puoi spostarti ma loro con quelli ti inseguono a volte vengono impiantati proprio al centro magari del cervello dietro l'orecchio anche ma dappertutto perché ho una ragazza che mi sta mandando foto di questi impianti ne ha già avuti altri se li stanno andando a farti anzi li metterò ora nel video che si possono vedere anche questo è molto interessante fino a che punto arrivano sì loro hanno questa tecnologia che a volte non la si vede neanche con un microscopio a volte e attraverso questa tecnologia noi sconosciuta che quelle che tu hai citato adesso sono quelle più grossolani sì sono quelle più grossolani di solito quelli più grossolani sono quelli di origine rettile per esempio dove i grigi che sono sempre a servizio sono entità diciamo biologiche ma non hanno né spirito né anima sono soltanto di robot biologici tutti i grigi sono così o ci sono altri grigi quelli che noi chiamiamo grigi che sono quelli piccolini alto metro e venti metro e trenta che sono quelli che hanno quattro dita che loro sono quelli che vengono nella camera e ti vengono a prelevare ti vengono a bloccare ti creano le cosiddette paralisi del sonno quindi sono loro che in qualche modo vengono e ti bloccano attraverso questa tecnologia attraverso questa battecca bachetta magica e ti paralizzano quindi ti prendono ti prelevano a livello eterico a volte a volte anche a livello fisico e ti portano in queste basi in queste navi ti impiantano e poi ti riportano giù e tu non ti ricordi più ti cancellano la memoria this in time e tu ti hanno riprogrammato ma i grigi quindi sono praticamente tutti i cloni non hanno nessun si sono esatto chiamiamoli cloni insomma sono creati in laboratorio hanno un'intelligenza e lavorano per il padrone sono tanti fatti no? si loro diciamo sono quelli sono un po' la manovalanza di tante razze insomma poi ci sono invece quelli che mandano i loro simili non è detto che ci sono sempre i grigi ma i grigi sono quelli più comuni ecco si si sono quelli sono quelli diciamo che hanno un po' tutti con gli standard poi aumentando di categoria puoi andare verso anche le entità più più pesanti perché poi anche lì c'è una piramide come la piramide sotto e sopra insomma ci sono le categorie e più vai più ti abbassi di vibrazione di dimensione più vai verso le entità le famiglie diciamo aliene demoniache quelle che noi chiamiamo i demoni quelli a volte cioè non hanno neanche bisogno di impianti sono loro proprio a parassitarti e una volta che ti entrano dentro la tua la tua interferenza può passare da un livello 3 a un livello 5 a un livello 7 8 che diventa possessione ma quello è un altro discorso è un altro discorso sono proprio loro che hanno bisogno trovano un terreno fertile entrano ma per entrare hanno hanno l'accesso ok perché hanno l'accesso hanno l'accesso hanno l'accesso perché probabilmente quell'anima che è in quel corpo si è trovata a fare delle esperienze talmente basse e quando dico basse dico proprio a livello vibrazionale cioè è un'anima che che ne so ha un serial killer cioè un'anima che in qualche modo ha fatto delle cose devastanti quindi ha abbassato talmente la vibrazione che questi entrano e può anche essere una concatenazione nel senso prima ti parassita uno che ti mette un impianto ti succhia un po' così ti fa andare sempre più a rotoli sempre più in basso e piano piano arrivano e ti entrano dentro entità più potenti o comunque più possessive potrebbe potrebbe anche essere potrebbe essere anche così ma normalmente io ho notato che quando sì ci sono per esempio in qualche in qualche caso ci sono c'è la presenza di entità diciamo di bassa dimensione le chiamiamo noi ed entità diciamo aliene che usano la tecnologia riescono in qualche modo a condividere perché è come se noi fossimo fatti un po' a cipolla abbiamo trattato tanti strati e comunque l'energia serve basta per loro e anche per gli altri comunque alla fine c'è sempre una piramide dove comunque l'energia va a finire c'è sempre una torta che viene divisa in tante fettine e ci sono anche parassitaggi un po' a effetto matrioska cioè ci sono alieni che parassitano altre razze aliene che parassitano altre razze aliene più dense che sono più vicino a noi cioè con noi possono interferire e interagire alcune razze non tutte perché ci sono quelle che qua in questa dimensione non ci possono arrivare allora si in qualche modo parassitano una parte di questi alieni che fanno da ponte è tutto è tutto un gran casino però pur di sopravvivere fanno anche questo certo quindi per loro comunque come dire è una roba di sopravvivenza ecco no? è certo è la legge della sopravvivenza è la legge della sopravvivenza è la legge della sopravvivenza in qualche modo da parte loro da parte loro è una cosa normale come ti ripeto da parte nostra è normale andare a mungere o mangiare a mangiare la carne la differenza è che la mucca noi ci vede noi invece loro noi non li vediamo e quindi è per quello che la gente rimane anche sconvolta spiazzata perché questi qua sono animici invisibili ancora pensa che quanta differenza cioè chi è peggio noi o loro cioè noi ci rendiamo a volte ci rendiamo che conto che questa animale sta per essere ucciso e sente l'odore della morte e noi non ci facciamo caso perché un macellaio non è che sta guardando quello che sta quello che sta facendo è il suo lavoro e anche loro fanno la stessa cosa solo che loro a volte non sono così come si dice così violenti con noi a meno che non ci siano appunto queste entità demoniche che queste invece non hanno mezze misure ma loro ci odiano ci odiano ci odiano questi qua scusami noi non trattiamo diciamo casi ecco così pesanti sì sì ma ci odiano o è veramente solo una necessità di sopravvivenza sono ostili o sono ma non ostili è che in qualche modo hanno cioè disprezzano quello che loro desiderano chi disprezza compra è un'invidia esatto perché loro sanno che noi abbiamo una cosa che loro non hanno e quindi ci disprezzano voi non valete nulla l'essere umano è uno schiavo l'essere umano è soltanto un mezzo hanno ragione però però alla fine comunque loro ci parassitano perché comunque hanno bisogno dici io faccio quello che voglio capito a volte quando mi sono trovato per fortuna pochissime rare volte in contatto con entità così pesanti e una volta me la sono anche presa sono stato malissimo per 4-5 giorni con l'aberientite vomito e desiderio di suicidio anche a me è successo lì volevo fermarmi ma questo è successo 7-8 anni fa e invece quando ne sono uscito ho detto no questi vogliono vogliono intimorirmi ma io voglio andare avanti e sono andato avanti a me è successo l'anno scorso quando ho cominciato a parlare di questa roba l'anno scorso ma è una mezza fa quando ho cominciato a parlare di questa roba ora poi ho imparato in qualche modo come dire a proteggermi a schermarmi a fare un po' di cose poi è stata molto molto pesante anzi poi parleremo di questa cosa qua secondo te uno come deve fare per potersi ritenere come dire per ripararsi per riparare i colpi sì dobbiamo dobbiamo andare alla fonte di ogni cosa dobbiamo essere curiosi dobbiamo capire è pur vero che le informazioni non sono una garanzia cioè non è che il fatto che io so tante cose sono schermato rispetto a uno che non sa niente diciamo che è importante il conoscere perché comunque il sapere e il conoscere sono due fattori sono due cose che ti possono in qualche modo dare uno raggiungere uno step in più di consapevolezza il fatto di essere curiosi io undici anni fa ho detto io non posso andare avanti così cioè io voglio vedere cosa c'è dentro di me dietro le quinte del mio palcoscenico io ho voluto assolutamente fare questa sessione ero diventato un bambino ho prenotato e quando è arrivato il mio momento ho fatto la mia sessione e lì ho visto cioè sembrava un film io questa sessione ce l'ho ancora da parte e mi sembrava un film ma la mia vita è cambiata non era una suggestione era proprio che la mia vita ha preso una svolta completamente diversa certo non è stato totale il cambiamento ma è stato è stato come si dice graduale ma è cambiato progressivo ma costante esattamente esattamente ho cominciato ad aprire gli occhi e una volta che tu apri gli occhi non puoi più tornare indietro non puoi più tornare indietro no no assolutamente è una strada a senso unico è vero magari ci sono dei periodi un po' che che intoppi che non però poi riprendi sempre poi magari c'è il momento in cui sei sei stanco perché poi porta stanchezza perché il fatto anche di avere delle informazioni e trovarti di fronte a persone che ancora litigano per delle stronzate per esempio e tu ti stanchi a volte a vedere questa realtà in mezzo alla strada oppure che ne so anche quando parli con i parenti o con gli amici devi rimanere nel tuo spazio nel tuo posto devi rispettare il percorso di ognuno di noi capito però a volte ti stanchi e dici vabbè voglio lasciare stare ma poi c'è qualcosa che ti richiama indietro non puoi far finta di niente sei qua quindi qualche cosa devi fare per te stesso e magari dare qualche nozione anche per gli altri senti ma tu quindi ti sei relazionato con tante di queste di questi parassiti che cosa sei riuscito a comunicare con loro che cosa dicono come si esprimono qual è il loro qual è la loro psicologia questo è interessante ci sono le razze che ti disprezzano che ti offendono ci sono le razze invece che sono molto sottili cioè nel senso che loro sono state scoperte prendono baracca e burattini e vanno via cioè vengono invitati in maniera molto serena e tranquilla ad allontanarsi perché sanno che hanno solo da perderci e sono molto sottili e molto composti e ci sono quelli invece che ti ti blatterano addosso cioè se tu canalizzi magari un rettile ti spiuta addosso quello che vuole io ti uccido ti faccio ti minacciano e invece altri come gli insetti magari anche i felinoidi sono abbastanza duri specialmente quando troviamo quelle le razze felinoidi reali li chiamiamo c'è il re tipo il leone che è orgoglioso dice io non mi inginocchio davanti a te quindi io dico vabbè possiamo fare una prova quando tu sei collegato con nessuna persona e io ho il consenso di anima per poter interagire con questa persona io ho il controllo totale è una legge proprio di universale questa quindi non potrei fare niente con lui ma dal momento che ho il consenso da questa persona che sto trattando a lui dico ok allora tu l'ho fatto pochissime volte perché non si poi non l'ho più ritenuto opportuno ma se tu se tu vuoi sfidarmi ti faccio vedere che se io ti dico di metterti in ginocchio tu ti metti in ginocchio e lui mi dice provaci e io ti dico adesso in ginocchiati e praticamente in base a quello che vede o la telepata o la persona in ipnosi vede proprio che questo essere si inginocchia e non riesce a capire il perché come una forza sovratturale che lo costringe esatto perché attraverso la mia energia io riesco a interagire grazie però al consenso perché c'è sempre una sorta di libero arbitrio anche se non viene in qualche modo rispettato in tutto e per tutto dunque questo che cosa vuol dire è che noi siamo molto più potenti di loro assolutamente questo è importante dire la cosa importante è che le persone riescono finalmente a rendersi conto di questo questa è la cosa più importante è come avere una Lamborghini in garage e non saperla guidare questo è ma ci arriveremo ci arriveremo ci stiamo arrivando ci stiamo arrivando sì ma anche ci mettessimo altri 5.000 anni ma che importa tanto io già lo so che anche se in questa vita dico non vorrei più tornarci qui perché adesso sono un po' stanco come dice gran parte della gente poi quando sei dall'altra parte trovi un'altra scusa trovi magari un corpo ancora più idoneo a quello che tu puoi fare te lo scegli il DNA beh se fosse così perché no con questa cosa ci provi ci provi guarda quanti personaggi ci hanno provato eppure sono stati in qualche modo sono stati in qualche modo uccisi o crocefissi oppure che ne so il tesla di turno che lui aveva scelto un corpo congoro consono per quello che poteva essere la capacità di quell'anima collegato ovviamente agli alieni ma quelli positivi che poteva dare energia gratuita in tutto il pianeta e guarda che fine ha fatto c'è anche lui cioè è stato messo da una parte cioè diciamo è messo a riposo e tu ci torni fai il tentativo dai il tuo contributo però grazie a questi piccoli contributi e l'essere umano si sveglia perché se io penso a quello che ci ha lasciato poi il tesla di turno che ci ha lasciato un altro un altro scienziato e tanti altri personaggi comincio a riflettere comincio a farmi tante domande naturalmente sì sì poi ora man mano che andranno avanti i tempi arriverà sempre più gente che viene un po' ma sì ma adesso ci sono le anime che tornano è per quello che vogliono bloccare anche la popolazione nel senso anche nella nella fertilità no della procreazione perché ci sono anime che stanno arrivando che hanno i contro la terza ondata che diceva anche la canon praticamente sì sì ci sono anime che sono diciamo preparate anche se troveranno le loro difficoltà anche loro perché il gioco si fa sempre più duro quindi ci sono anime che stanno arrivando che sono molto forti ci sono quelli che si perdono completamente ma ecco ecco che danno contributo questo è interessante io mi preparo ecco facciamo quando sono un anime mi preparo a entrare nel gioco perché voglio scombinare un po' di carte svegliare un po' di gente mi preparo un po' il destino no perché poi ovviamente quando arrivi quando le risveglio tu devi anche passare in mezzo a dei casini dei traumi per poterti risvegliare non è che avviene così automaticamente quindi te lo devi un po' preparare diciamo che anima ha la capacità di vedere un po' quello che succede già perché lei non avendo il tempo lei vede il presente passato e il futuro contemporaneamente quindi lei sceglie il corpo perché vede un po' quello che è il suo percorso però nel frattempo ci sono quei punti interrogativi quindi uno si può anche perdere diciamo può anche non andare a buon fine alla missione è certo ma all'anima non importa lei non percepisce nulla cioè può percepire il fatto di sentirsi bloccata dentro dentro a un cilindro perché viene centrifugata e viene viene munta ma per lei non percependo il tempo ok ok capito sì sì però per esempio voglio dire magari ora in questo momento c'è qualche ad uno che si era programmato di venire a fare una missione di risveglio così collettivo e fare qualcosa però poi le vicissitudini della vita l'hanno portata da un'altra parte oppure è caduto non riesce più a rialzarsi e per tante vicissitudini non porta a termine quella che era la sua missione iniziale questo può capitare o il destino è così e cosa può capitare sì ma dobbiamo sapere che ci sono tante anime parlo di anime essere umani insomma un'anima anime meravigliose che in silenzio in sordina fanno tantissime cose a volte bisogna un po' anche di fidare di quelli che si fanno chiamare maestri soprattutto capito perché lì c'è l'inganno capito io sono un po' contro quella che viene chiamata new age ok vogliamo sebbene tutti quanti siamo tutti fratelli abbracciamoci tutte queste cose tutte queste cose di gruppo che poi alla fine hanno uno scopo unico o il potere o il denaro o tante altre cose e l'energia che perdono secondo te questa new age è quello che poi in questo calderone new age a chi gli è venuto in mente di inventare questa cosa qua è sempre a loro non sempre loro che creano devono in qualche modo attrezzarsi per sopravvivere mi vedono come il diavolo a me perché dico queste cose ma io non faccio riferimento a un qualcosa di preciso io parlo non è anch'io a un calderone che parla soprattutto questa new age contattista messianica questa new age polarizzata in questa luce quello che stavi dicendo a te sì cioè la new age è soltanto una facciata dell'essere umano o di questa rappresentazione perché poi tu nel gruppo vuoi dimostrare la parte più bella di te è come quello che va in chiesa si mette in prima fila per farsi notare dal prete e poi c'è magari quello che sta all'ultima fila in silenzio che è molto più avanti è molto più diciamo predisposto per la spiritualità quindi è inutile che poi tu vuoi fare il new age vuoi fare quello che ama tutti quanti e poi tiro del culo scusa per la posizione di un'altra persona cioè hai invidia e vorresti il potere vorresti essere più in vista di quello cioè purtroppo io l'ho detto anche stamattina in occasione della sessione stamattina che noi possiamo fregare tutti ma non possiamo fregare l'universo perché l'universo è vibrazione e la vibrazione non puoi ingannarla tu puoi dimostrare puoi far sembrare di te tutto quello che vuoi ma quello che conta è quello che tu sei dentro a livello vibrazionale quindi se tu sei un'anima amorevole e se tu sei una persona giusta non serve dimostrarlo non serve fare chissà che cosa è l'agghindamento generale capito chiaro un viso è cattivo gioco non funziona cioè l'universo non funziona quel tuo karma non funziona quindi tu crei quello che tu sei questo è la mia questo su questo ne sono certo al cento per cento dunque secondo te questi che stanno canalizzando tutti questi messaggi di imminente salva che vengono a salvarci i federazioni galattiche i adiani e quant'altro che cosa pensi di questo io non credo a queste cose non credo a queste cose anche se vorrei crederci sarebbe bello crederci ma però c'è una c'è una verità su questo attenzione quando quando si dice vengono a salvarci chi te lo dice che vengono a salvarti fisicamente ah sì cioè noi non lo sappiamo cioè noi veniamo salvati ok veniamo salvati perché tu hai hai una sei una tipologia sei fai parte di una categoria di anime e quindi tu avrai quello che ti meriti ok a livello vibrazionale qua non arriva quello che prende e salva tutta l'umanità no salva per dire a livello animico a livello spirituale energetico perché possono venire tranquillamente dei fratelli come perché come esistono quelli bassi esistono quelli alti ma normalmente quelli di alta dimensione non interagiscono mai con noi direttamente perché loro rispettano molto il nostro libro abitino sanno che noi non possiamo perire perché l'anima non muore mai lo spirito non muore mai loro sanno che noi siamo in un corpo e noi abbiamo paura soltanto del corpo di perdere il corpo ma loro sanno benissimo che se anche noi moriamo domani cioè se tu sei nella posizione di essere salvato vieni salvato quindi perché questi salvatori che dovranno arrivare questo salvatore che dovrà arrivare non viene per diciamo liberarci ok di salvarci a livello di anima mentre il corpo magari viene viene distrutto da una meteorite cioè ti faccio un esempio capito noi pensiamo che qualcuno viene a salvarci perché viene con la navice alla spaziale ci caricano fisicamente ci portano in un altro luogo a far che a far casino ma anche si pensa che vengano come dire a sbominare la banda noi siamo noi siamo delle bombe a orologeria vaganti cioè noi vogliamo essere salvati ma siamo i ladri siamo gli assassini siamo gli struppatori siamo gli egoisti pensiamo solo a noi cioè come possiamo pretendere di essere salvati ok allora ognuno però possiamo comprendere che diciamo l'amore del dio trascendentale se esiste un dio trascendentale o di razze che lo rappresentano loro sanno chi sei effettivamente tu quindi vanno anche oltre questi limiti vanno oltre questi nostri difetti e ci possono io credo che questa sia tutta quanta un'operazione di lavaggio del cervello veramente operata su grandissima scala perché hanno un seguito incredibile in tutti i social queste canalizzazioni Ashtar-Sheran Pleiadiani Galattici eccetera credo che sia un'operazione del sistema dimentichiamoci del corpo esatto a parte avere sempre queste speranze in qualcuno che deve aiutare per non renderti consapevole dell'incredibile potere che hai in te primo ma poi anche se veramente volessero intervenire con tutto questo disclosure sugli extraterrestri e quant'altro far arrivare effettivamente qualche d'uno vero presunto per instaurare una nuova religione un nuovo sistema di governo non credo che ci sia nulla di buono in tutte queste canalizzazioni in tutto quello che sta uscendo con il disclosure della realtà extraterrestre a livello governativo tutto cambia tutto muta e comunque anche se mutasse nel bene comunque c'è sempre bisogno di controllo si presume perché ci sono anche quelli che si chiamano viaggitori nel tempo che poi messi in fila uno dietro l'altro riescono a darti delle risposte un po' come nell'ipnosi regressiva cioè si vede che comunque si vede un nuovo ordine diciamo fra qualche decennio dove esiste soltanto uno ma sono sempre loro che si mettono d'accordo ed esiste soltanto una classe diciamo dirigente ok quindi ci sarà un nuovo ordine dove tutti risponderanno a questo nuovo ordine ci sarà anche quello ci sarà una popolazione molto molto minore perché si può controllare meglio quindi gli altri dove sono gli altri saranno salvati probabilmente saranno fuori gioco ma sono comunque in altre dimensioni ci sarà una specie di speciazione diciamo ci deve l'energia è in continuo movimento non esiste la morte non esiste la fine noi siamo e saremo sempre quindi noi affinché ci identifichiamo come corpo non ne usciremo fuori non ne usciremo fuori beh certo questo è verissimo e basta basta andare a venere dei canali io ti posso dire che ne so NDA Italia per esempio è un canale interessante dove si parla appunto del tunnel di persone ma tu capisci l'originalità della sensibilità del racconto tu capisci che non c'è niente di artefatto perché l'alieno di turno non può portarti a a testimoniare un'esperienza simile capito questo dal mio punto di vista quindi c'è una speranza per noi assolutamente perché se non ci fosse speranza sarebbe già finita c'è una speranza quindi c'è un posto dove noi possiamo andare a risettarci a recuperare a riflettere e a provare effettivamente quello che è la nostra vera energia che è moltiplicata per mille rispetto a quella che abbiamo in questo corpo cioè noi qui non abbiamo nessun tipo di potere perché noi vediamo soltanto la carota ma una volta usciti fuori dal corpo le nostre percezioni diventano assurde diventano incredibili quindi dobbiamo riflettere molto su questo dobbiamo cambiare la nostra percezione della dell'esistenza dobbiamo pensare che siamo anime che vestono un corpo un vestito non possiamo identificarci come un corpo che possiede anche un'anima perché altrimenti rimaniamo qui è vero questo è molto vero questo è assolutamente vero e questo è il fatto quindi ci sarebbe da parlare per ore d'ore d'ore di qualsiasi argomento di qualsiasi tipo di situazione o meccanismo mi rendo conto che il tempo invece da parte nostra a volte non basta siamo un po' legati al tempo ma ci sarebbe da parlare tantissimo su tante cose adesso non so quale possono essere le curiosità delle persone che poi ascoltano perché non essendo un video in diretta quindi ma va bene anche così insomma però insomma ecco se io credo che abbiamo abbiamo toccato tanti argomenti sicuramente in maniera molto molto superflua ecco però insomma un indirizzo c'è ma non credo che io stia raccontando abbia raccontato niente di nuovo perché penso che chi segue questi canali sappiano già di cosa stiamo parlando insomma però è importante che una persona che come dire è nel campo che hai fatto 1600 diplomati hai interagito con questi esseri hai cavato fuori dai da questi problemi centinaia migliaia di persone che dici queste cose vuol dire molto significativo molto molto rilevante e poi quando uno ne trae le sue le sue le sue personali sì poi ci sono persone che riescono ad avere un beneficio già dopo una sessione come è capitato a me e ci sono persone invece che sono molto più mentali e che non riescono a raggiungere quel risultato però magari che ne so dopo fanno un'altra introspezione fanno magari un'altra cosa e poi magari riescono è un po' come una scuola capito c'è chi è un po' più duro e c'è chi è invece più predisposto siamo quando andavamo a scuola c'era sempre il secchione e c'era quello invece più un po' più duro di comprendoio no? quindi così è anche per le anime ci sono anime un po' più sviluppate più sveglie e più emancipate ci sono invece anime più fresche dipende dipende da chi è tutto un incognito cioè dipende dipende quello quando devi rompere l'uovo per capire dentro cosa c'è la sorpresa quindi io trovo che questa metodologia sia fantastica perché veramente riesci a toccare anche con mano energetica quello che ti trovi di fronte e anche a proposito di questo possiamo diciamo chiudere in bellezza e dire che a volte quando si parla di canalizzazioni per esempio o di scrittura osomatica io penso sempre alla buona fede delle persone ce ne sono tantissimi che canalizzano oggi ma io in base alla mia esperienza di quello che vedo che mi si presenta vedo che più delle volte queste persone in buona fede che sentono e canalizzano messaggi amorevoli messaggi straordinari e in effetti dietro si nasconde il parassita molto astratto capito quindi io come faccio a mettere in dubbio come faccio a mettere in dubbio una canalizzazione dove dice che noi dobbiamo essere amore dobbiamo essere cioè questi sono occasioni per poter raggruppare più persone possibile più follower possibile in maniera che dopo in questo calderone loro possono attingere possono attingere ancora di più capito in base alle informazioni che dicono cosa succede nell'ipnosi in questo metodo che abbiamo che stiamo portando avanti che tante volte vediamo il padre pio che si presenta davanti ok perché la persona ci dice nei punti guarda io ho dei contatti con padre pio che a volte viene vicino a me mi tocca la testa mi benedice mi protegge e questa persona è entusiasta anche nel raccontarcelo però mi sento male le cose non vanno come devono andare ma scusa riesci a capire ma se tu sei benedetta da padre pio ok ma come potrebbe essere l'angelo Michele o Gabriele o potrebbero essere angeli custodi potrebbe essere chiunque ed è infinita la lista come mai che poi alla fine tu comunque sei lì che soffri hai problemi di che ne so di di terrore cioè hai ansia hai patologie hai cose cioè alla fine qual è questa protezione ok forse è solo dell'anima allora cosa facciamo vediamo questo in ipnosi chiamiamo questa persona e si presenta davanti questo padre pio e e noi lo invitiamo a venire davanti ok lui si presenta davanti sembianza è perfetta cioè dalla telepota o dall'ipnotizzato da quello che viene ipnotizzato cioè vedi la persona davanti ok vedi la figura cosa succede tu vai a toccare dice ok prova a toccare con le tue mani energetiche questo personaggio questo padre pio questo angelo custode e mi dici cosa percepisci toccandolo quando lo tocchi o si trasforma per quello che è veramente o tu senti una vibrazione talmente brutta talmente angosciosa che tu dici no non è possibile capito e poi ovviamente con la nostra tecnica vediamo gli facciamo tirare giù il vestito la maschera e dietro c'è che ne so la razza caprina con gli zoccoli o c'è il demone di turno e funziona così questo è estremamente interessante perché questo è proprio il problema più grave perché loro si sanno uno dei problemi più gravi perché loro si sanno trasformare si sanno mimetizzare travestire da quello che vuoi poi ci arrivi te e te non te ci arriva uno che è ingenuo che se lo fa andare bene ovviva che bello abbiamo imparlato con padre pio poi ci arrivi te che sei un po' più smaliziato tu lì ci senti un po' padre pio mostrati un po' per quello che stai vediamo un po' se te sei davvero padre pio ed ecco lì ma loro lo sanno loro lo sanno loro lo sanno perché sanno che lui è devoto o lei è devoto a padre pio quindi si presenta come padre pio se sei devoto alla madonna si presentano sotto forma di maria vergine capito ma tu vai a toccarli e poi alla fine dietro c'è sempre il problema è che abbiamo tutti questi canalizzatori visioni cose che vedono padre pio e si fermano lì senza volere indagare un po' più a fondo vanno in buona fede ma questo è un problema molto molto serio io praticamente da quando sto dicendo queste cose tutte queste persone che pensano di vedere padre pio la madonna gli angeli e quant'altro dicono ma no ma io vedo madonna come fai a dire questo voi vedete questo perché siete ingenui perché vi sentite speciali che va apparsa padre pio va apparsa la madonna e dite oh sono benedetto e alleluia invece dovreste pensare ma sarà veramente padre pio o sarà veramente madonna la controprova arriva dopo allora se lui era padre pio e lui aveva messo in dubbio questa cosa perché ci credeva talmente tanto che poi alla fine ok l'hai visto chi c'è dietro c'è questo tizio che si spaccia per padre pio cosa vuoi fare alla fine è costretto a mandarlo via perché sente proprio delle vibrazioni molto basse lo manda via finisce l'ipnosi e questa persona nell'arco di qualche giorno comincia a sentirsi meglio allora cosa c'era cosa hai capito da tutto questo sì sì chiaro ci sono certi ipnologi che usano anche la tecnica dello specchio l'altra volta ne ho intervistato uno Giuseppe Mangini lui usa la tecnica dello specchio gli dice all'ipnotizzato mostra uno specchio davanti a questa entità così vedi nel fuori flesso potrebbe essere anche non ho mai provato questa tecnica ma magari funziona certo ci sono altri come dire tuoi colleghi che usano delle tecniche perché si diceva che attraverso lo specchio tu non vedi o vedi la realtà vedi la vera realtà insomma comunque ci sono operatori che con diverse tecniche riescono ad andare oltre al muro oltre all'apparenza altri invece si sono fermati lì e secondo me questo è un problema molto grave perché si ha insomma che rischia di fare davvero dei danni perché loro in questo modo quasi insinuano fanno un po' quello che cavolo devono fare senza che te ne accorgi perché addirittura ti senti speciale privilegiato e sei contento del fatto che vedi o canalizzi o parli con la madonna con i santi una cosa importante da dire che attraverso diciamo questa metodologia queste esperienze qualcuno dice ma può può succedere che tu magari poi magari peggiori non è mai successo alla peggio dico alla peggio se non hai nessun tipo di miglioramento rimani lì come sei sì sì non non ho mai visto un caso che è peggiorato cioè se qualche caso è peggiorato è perché comunque aveva un karma talmente pesante che noi non siamo dio non possiamo sistemare le cose nel senso noi possiamo sensibilizzare una coscienza di anima e lei può fare quello dove può arrivare ok ma se tu questa persona poi magari va a degenerare il suo stato diciamo energetico in quel caso fisico è perché c'è un percorso e noi non ci possiamo intromettere più di tanto infatti noi si entra in punta di piedi facendo mille premesse nel senso che dobbiamo in qualche modo rispettare quello che è libero arbitrio e quello che è la decisione di quest'anima perché è successo che qualche anima ci ha boicottato c'è delle persone anime che erano compromesse che erano totalmente in preda di non dico di possessione ma quasi dove dietro c'era il burattinaio che durante la sessione ha detto no ma io vi ho chiamato soltanto per prendervi in giro e c'era dietro questo essere l'anima che non è riuscita a prendere posizione cioè avevamo davanti l'anima e avevamo questo essere e quest'anima la vedevi legata che ne so con una catena era tutto simbolico no perché poi dipende anche dal tipo di lettura di ologrammi che tu vedi e praticamente c'era quest'anima che dice no io non voglio cambiare voglio stare qui dove sto ok e allora noi chiediamo ma perché ci hai contattato e allora subentra l'altro dice perché volevo volevo sfidarvi è successo anche questo veramente molto interessante è successo anche questo comunque in generale dici non ci sono danni collaterali o effetti avarsi rispetto a quelle alle cose che stiamo facendo no non provo che nulla se non quello cioè tu lasci quello che è tale e quale l'evoluzione cioè l'evoluzione o l'involuzione di una persona noi cerchiamo soltanto di sensibilizzare anima affinché lei nell'arco di un'ora praticamente riesca a capire più cose possibili in maniera che queste cose non si diluiscano magari in altre 3, 4, 5, 10 vite altrimenti se lei rimane con le stesse informazioni che ha potrebbe incarnarsi altre 10 volte altre 20 volte e portarsi dietro questo problema e quel problema e loro ci mangiano sempre mentre così riesce in qualche modo ad alleggerirsi alleggerire il corpo in cui si trova per fare esperienza non solo migliorare la vita questa presente in questa linea ma anche tutte le altre che poi andrà a fare andrà più preparata nella scelta di corpi super interessante tutto quanto eccoci super interessante va bene dai va bene per questa volta direi che abbiamo veramente parlato di un bel po' di roba io non so cos'altro aggiunge perché praticamente non abbiamo pianificato nulla quindi è stato tutto infatti io man mano che te parli mi viene in mente di fare qualche domanda se avevamo delle domande già prestabilite ci si poteva prolungare però così in maniera molto tranquilla e serena ecco abbiamo cercato di toccare un po' un po' di tutto insomma per dare un'ordinata generale va bene Aldo ti ringrazio veramente tantissimo poi ovviamente se ci saranno domande dal pubblico domande che scatenerà diciamo la società in sé le domande sono sempre le stesse adesso sono i periodi delle domande ci sono i periodi delle domande prima degli esperimenti poi dei 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 tunnel insomma vanno poi la terra sferica o piatta insomma ci sono le varie fasi eh quello anche sì 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 va bene ne riparleremo sicuramente un'altra volta Claudio grazie a te per l'invito è stato un piacere e speriamo insomma che questa mia testimonianza possa possa avere diciamo dei benefici insomma o possa aprire qualche mente grazie Aldo ciao ciao a presto ciao grazie a tutti Grazie a tutti